Finisce con una sconfitta la sesta giornata di campionato dell'Arezzo Calcio Femminile che ha affrontato il Pavia Academy in trasferta. Le Amaranto, reduci da una serie di risultati positivi, erano partite con il piede giusto, portandosi in vantaggio al 37esimo con Zito, che con un pallonetto aveva superato il portiere Dejana. Il primo tempo si era chiuso con l'Arezzo avanti di un gol, nonostante alcune insidie create dal Pavia. Nella ripresa il Pavia Academy ha ribaltato il risultato, al 48esimo Alborghetti, sola davanti alla porta, ha segnato il gol del pareggio. Appena 4 minuti dopo, al 52esimo De Maio ha trovato il raddoppio, portando il risultato sul 2-1. Nonostante diversi tentativi da parte delle ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile, quest'ultime non sono riuscite a raddrizzare l'incontro. E così si è concluso con i tre punti che ha portato a casa il Pavia Academy. Grazie.